Una domenica di sangue sulle strade, con un morto e tre feriti al confine con la provincia di Sernia, a perdere la vita un 68enne di Cerro a Volturno, da tempo residente a Castel di Sangro. Il tragico frontale si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la Fondovalle Sangro, non molto distante da Rioniero Sannitico. L'uomo Giuseppe Rossi era alla guida di un Audi 4, quando per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente con una vettura che ha invaso la carreggiata su cui viaggiavano due persone di battipaglia. In auto con lui c'era sua moglie, ferita e trasportata dal 118 all'ospedale veneziale di Sernia. Sono in tutto tre i feriti nell'incidente. Non sarebbero in pericolo di vita, nonostante l'impatto violentissimo in cui il 68enne di Cerro ha avuto la peggio. La sua Audi era completamente accartocciata. La moglie sarebbe viva per miracolo. Troppo gravi invece le ferite che Giancarlo Rossi ha riportato nello scontro. L'uomo resideva a Castel di Sangro da quando si è sposato, ma ancora i suoi parenti a San Vittorino e Foresta, frazioni di Cerro a Volturno che in queste ore piangono la sua morte. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Castel di Sangro che hanno eseguito i rilevi per ricostruire l'accaduto.